La volta scorsa portarono via 7.500 euro tagliando le colonnine in acciaio del self-service. Questa volta hanno portato via meno 6-700 euro, ma i danni sono ingenti comunque e soprattutto l'esasperazione del gestore è sempre alle stelle. Due furti identici nel giro di meno di 20 giorni metterebbero a dura prova i nervi e la pazienza di chiunque. Questa è la terza volta, mi trovano sempre un po' incazzato, un po' di alterazioni, però cavolo, noi non ci salviamo più. Ho fatto una richiesta anche al sindaco di mettere una pattuglia di vigili da mezzanotte alle 6, invece di mettere 3-4 pattuglie al giorno per fare solamente le multe ai parcheggi, di guardare un po' anche la nostra economia, insomma, tutte queste fabbriche che c'erano qui, Rosciano, Cucurano, Bellocchi, un servizio in più, a parte che abbiamo anche le guardie notturne, abbiamo tutto, abbiamo le telecamere, però questa gente poi quando li prendiamo i giudici dà un premio, li manda subito a casa e ne questo è il sistema. Poi questa notte possiamo ringraziare la polizia, il commissariato di Fano che ha fatto un servizio ampio qui da noi, ci sono stati, mi sembra, qui 2-3 ore proprio per prenderli perché prima hanno fatto quello in via Roma, l'ha esso in via Roma e loro subito si sono preoccupati che facevano questo e veramente l'hanno fatto. A confronto dell'altra volta, l'altra volta hanno preso su 7.500 euro in contanti perché c'è stato un disguido, ma questa volta invece i soldi sono da 600-700 euro perché noi adesso tutte le sere li caviamo. Sono le 4 del mattino di oggi, al 113 arriva la chiamata di una persona che volendo fare rifornimento si accorge della manumissione della colonnina del self-service e così scatta l'allarme. Arrivano gli agenti del commissariato di Fano che si mettono subito sulle tracce dei ladri, in piena notte. Gli uomini del dirigente Stefano Seretti che conducono le indagini sull'accaduto sono in allerta da tempo per questi colpi ai distributori automatici, visti anche i precedenti in altri self-service della città. Stamattina, oltre allo sfogo del titolare, hanno raccolto indizi utili alle indagini. I danni li hanno rifatti, anzi, questa volta li hanno rifatti anche di più perché tutta l'elettronica che abbiamo messo un mese fa l'hanno rispaccata tutta. Questo è il problema. Sotto Danimo è alle stelle, pensa come mi devo comportare, questo è il problema. Non saprei nemmeno io come comportarmi in queste situazioni, cosa dire della politica e di questa gente che vanno a rubare da tutte le parti.